Nella classifica del sole 24 ore, tra i governatori più amati d'Italia, Roberto Occhiuto è al quarto posto. Con il 59% di gradimento, migliora di una posizione rispetto allo scorso anno e non è nasconde l'orgoglio. Voglio ringraziare i calabresi per la fiducia e per il sostegno, fa sapere Occhiuto in una nota stampa. Questi attestati di stima rappresentano un incoraggiamento ulteriore ad andare avanti, con lo stesso entusiasmo e con la stessa determinazione dell'ultimo anno e mezzo, consapevoli che la Calabria è una terra complessa e che c'è ancora una montagna di problemi da scalare per dimostrare a tutti quanto straordinaria sia la nostra regione. Il governatore della Calabria risulta così il primo per gradimento nel mezzogiorno ed il primo di Forza Italia. Al primo posto si trova il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini con il 69%, seguito da quelli di Veneto e Friuli Venezia Giulia. A pari merito con Occhiuto invece c'è il governatore della Liguria Giovanni Toti. Tra i capoluoghi di provincia calabresi invece la sindaca di Vibo Valencia Maria Limardo ottiene il 51% di gradimento in calo di 8,5 punti. I sindaci di Catanzaro, Cosenza e Crotone ottengono tutti il 50% in calo rispetto allo scorso anno. Nicola Fiorita perde 8,2 punti, Franz Caruso ne perde 7,6 e Vincenzo Voce 14. Reggio Calabria invece non è stata inserita nella graduatoria perché il sindaco eletto Giuseppe Falcomatà è sospeso.